Pronto? Ciao Presidente! Siamo in linea, bene! Un saluto a tutti, a Franco naturalmente e poi a Vittorio Covella che so che è l'anima dei nostri club che stanno nascendo da voi e un saluto affettuosissimo anche a Sandra che sta facendo benissimo come Presidente del Comitato Regionale. Un'osservazione preliminare e poi mi fate voi delle domande. Avete fatto apposta per me e per la mia venerante età a scegliere come sede di questo momento l'hotel Ai Patriarchi? No Presidente, sei in collegamento con Cagliari. È venuto così insomma. Ma qua siamo al Miramare e ad Alghero. Non vi sento, avvicinati un po' di più perché data la venerante età vi è caduto anche l'udito. Presidente, siamo in collegamento da Alghero, dal cinema Miramare. E siamo qui, c'è il popolo dei moderati, c'è il popolo di Forza Italia, tutti gli alleati che ti salutano e ti abbracciano affettuosamente. Grazie di essere qua con noi in collegamento. Grazie, grazie a voi. Io, come sapete già, ho molta fiducia nel nostro ritorno come moderati al rapporto con le persone perché l'avevamo, dobbiamo essere chiari con noi stessi, l'avevamo perso. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Sono molto contento di essere qui a Gallarate con tutti voi. Un saluto anche alle persone che sono fuori da questa stanza e che ci ascoltano un po' più al freddo. Un saluto naturalmente a Silvio Lai e un saluto particolare al prossimo presidente della regione Sardegna, Francesco Pigliari.